e rieccoci qui ben ritornati e anzi benvenuti ad un nuovo appuntamento con anatomia di uno scatto in questa occasione in questo nuovo appuntamento vi ho proposto cinque scatti come ben potete vedere cinque scatti autoriali di cinque autori diversi legati tutti legati tra di loro da un filo conduttore che non è semplicemente quello di una comunque tendenza a raccontare in qualche modo dei soggetti e quindi dei ritratti ma andremo a vedere come appunto vi racconterò vi spiegherò nel dettaglio qual è il filo conduttore che ho pensato qual è il filo conduttore che mi ha fatto raccogliere questi cinque scatti e metterli insieme in questo nuovo sondaggio da quale voi avete scelto la foto di gay bourdon qualcuno di voi sicuramente sarà riuscito a notare qual è il filo conduttore che lega in un certo senso questi cinque scatti ebbene l'elemento principe l'elemento compositivo che in qualche modo che in un certo senso lega questi scatti è il framing ossia la cornice naturale che gli autori di questi cinque scatti hanno deciso di utilizzare per dare più enfasi per dare più tridimensionalità alle loro immagini questo escamotage compositivo che appunto l'uso di cornici naturali permette all'autore permette al fotografo che lo utilizza di dare più profondità alle immagini quindi più tridimensionalità e far risaltare in un certo senso meglio il soggetto che ha scelto essere principale all'interno della sua immagine e inoltre con l'utilizzo delle cornici si riesce a condurre lo sguardo dell'osservatore verso un punto ben preciso all'interno del fotogramma. Gabor Dan è stato un maestro della composizione fotografica. L'uso che ha fatto dei colori, delle forme e appunto delle cornici è stato esemplare e allo stesso tempo unico e sorprendente dal punto di vista di come è riuscito ad utilizzare tutti gli aspetti compositivi all'interno delle sue fotografie ha fatto sì che il suo stile fosse ampiamente riconoscibile. Quando noi ci troviamo di fronte a uno scatto di Gabor Dan lo riconosciamo a prima vista. Questo fotografo francese è stato in grado di rivoluzionare il linguaggio fotografico legato agli ambienti della fotografia di moda dei suoi anni ed è stato davvero facile per lui passare da una fotografia ritenuta puramente commerciale ad una fotografia che entrava pian piano negli ambienti dell'arte contemporanea. Come spesso accade per fotografi di questo calibro gli inizi sono stati segnati da un percorso di pittura e disegno. Poi c'è la scoperta appunto della dell'arte fotografica e tutto il resto è praticamente storia. Pian piano infatti Gabor Dan ha cominciato ad avvicinarsi alla fotografia scoprendo in Man Ray un mentore stratosferico. Ispirato dal talento del suo mentore, Gabor Dan incomincia a produrre i suoi lavori che sono spesso caratterizzati da un forte uso del colore, dei colori molto molto realistici e soprattutto una tendenza a rappresentare delle scene erotiche della vita di tutti i giorni e questo diverrà uno dei suoi tratti distintivi. Questa capacità di appunto riuscire a introdurre nei suoi scatti degli aspetti erotici in fotografie che comunque raccontano come potete ben vedere dei momenti di vita quotidiana. Le sue immagini sono state tra le prime ad introdurre una narrativa, sono state tra le prime a raccontare qualcosa, raccontare una storia e quindi mettere l'immagine, dare più valore all'immagine piuttosto che all'oggetto rappresentato. Come ho detto prima la sua caratteristica principale, diciamo il suo talento nella composizione consisteva soprattutto nel rappresentare dei colori molto reali, molto forti. La presenza del colore era fondamentale nelle sue immagini e poi naturalmente c'era una composizione meticolosa, non lasciava mai nulla a caso e spesso usava tagliare i soggetti all'interno delle sue immagini. Questo ritagliare le immagini, questo ritagliare i soggetti per meglio dire all'interno delle sue immagini lo possiamo chiaramente vedere nell'immagine che avete più votato e che quindi avete scelto per questa analisi di uno scatto. Ecco, oltre al taglio che era, come ho detto prima, come ho anticipato con questa piccola intro, uno degli elementi principi della composizione di Gay Bourdain, in questo preciso scatto quello che più ci risalta, quello che più Gay Bourdain ha utilizzato per dare forza a questa immagine è l'uso delle cornici, cornici naturali in un certo senso perché sono state inserite dall'autore, sono delle cornici non create appositamente ma realizzate attraverso l'uso di elementi che erano lì a disposizione sul suo set. E' vero, poi questa è stata tutta una scena preparata, studiata a tavolino, ma come ho detto prima, Gay Bourdain era un maniaco della composizione e in questo caso l'uso delle cornici è sublime. Insomma, a differenza di quello che ho anticipato nella piccola intro, le cornici ci aiutano a dare più valore ai soggetti che sono inclusi all'interno dello spazio delimitato dalla cornice. Ma in questo caso, come potete vedere, come ben si capisce, l'oggetto principale di questa fotografia è la scarpa. Ecco che ci rifacciamo a quello che ho appunto detto durante l'introduzione, cioè che Gay Bourdain aveva una narrativa, dava una narrativa, voleva raccontare qualcosa attraverso le sue immagini e il soggetto principale, che in questo caso dovevano essere le scarpe, non era più così forte. Quello che importava a Gay Bourdain di raccontare anche attraverso la composizione meticolosa che lui era in grado di fare, era appunto una storia, non voleva raccontare semplicemente la scarpa che doveva essere l'oggetto di una campagna pubblicitaria e quindi doveva essere l'oggetto principe di una fotografia, che poi alla fine lo è, perché è l'elemento prevalente all'interno di questa immagine. Però poi, attraverso il sapiente uso delle cornici, guardate, in questo caso, qui, questa è una cornice, questo è uno spazio creato dal tacco e dal decolleté della scarpa, ma qui, tra le gambe anche, tra i polpacci e questa parte del piede, si crea un'altra cornice e qui ancora si crea un'altra cornice dove c'è questo scorcio di Parigi e questa è la Torre Eiffel, Parigi riconoscibilissima. Proviamo a ritornare indietro, vediamo meglio cosa... vediamo che appunto questa è una cornice che ci permette di orientare il nostro sguardo all'interno di questo piccolo riquadro, il nostro occhio viaggia all'interno di questo piccolo riquadro e guardate, anche qui c'è un'altra piccola cornice che ci dà comunque modo di andare a cercare qualcosa all'interno di questo spazio e trovare appunto dei soggetti che stanno facendo qualcosa. Quindi la quotidianità di Gail Burden, che vi ho detto prima, lui era maestro nel riuscire a dare valore a delle azioni quotidiane e riuscire comunque a creare la sua arte all'interno di situazioni che ai nostri occhi potrebbero sembrare banali. Ecco, quando poi riusciamo ad avere un'educazione tale da riuscire a manovrare, a maneggiare, a usare con maestria gli elementi compositivi, anche all'interno di situazioni banali noi riusciremo, un buon fotografo riuscirà sempre a vedere una buona fotografia e Gail Burden è riuscito a farlo in qualsiasi dei suoi scatti. In questo principalmente è riuscito a usare le cornici in modo magistrale. A differenza appunto degli altri fotografi che avete visto rappresentati con le fotografie di questo sondaggio, lui è riuscito a spostare l'attenzione dal soggetto principale che doveva essere quello della scarpa a la situazione che si sta svolgendo all'interno di una città che è riconoscibilissima grazie all'elemento principe all'interno di questa cornice posta quasi al centro del fotogramma e comunque la scarpa è ben presente. Riuscire ad utilizzare questo elemento compositivo che è appunto l'uso delle cornici è molto importante. come detto prima ci aiuta a dare tridimensionalità all'immagine perché qui vediamo benissimo che ci sono più piani, ci sono le scarpe in primo piano e poi guardate le proporzioni anche come l'utilizzo delle cornici ci permette appunto di giocare con le proporzioni. Un uomo che sappiamo essere ben più grande di una scarpa è all'interno di uno spazio ben definito appunto dalla scarpa. La torre Eiffel che è grande addirittura più dell'uomo, più della donna in primo piano che indossa queste scarpe viene racchiusa all'interno tra diciamo il tallone e il polpaccio delle sue gambe, di queste due gambe che immaginiamo essere appunto di una donna perché la scarpa è di una donna. Poi in questo caso Guy Burden ha utilizzato il bianco nero, lui era solito utilizzare il colore ma c'erano forse troppi elementi e ha preferito togliere un elemento di distrazione che poteva essere quello del colore. Insomma, riuscire a comporre, ad utilizzare questo elemento compositivo che è appunto la cornice naturale, ricordatevi naturali perché spesso se noi guardiamo ad una scena che ci può, che ci comunica qualcosa, spesso riusciremo a trovare una cornice che ci permette di far dirigere lo sguardo dello spettatore, di chi poi osserverà la nostra fotografia, verso il punto di interesse, verso il punto che abbiamo scelto essere il nostro soggetto principale e poi andando avanti con l'esperienza riuscire anche a giocare e a dare l'illusione che l'elemento principale di questa immagine sia la Torre Eiffel o sia l'uomo contenuto all'interno di questa cornice oppure questi altri, quest'altro gruppo di persone contenuto all'interno di quest'altra cornice. Dare appunto questa illusione quando invece il vero soggetto principe di questa immagine sono e devono essere le scarpe che sono sicuramente oggetto di una pubblicità, di un commerciale che Gay Burden stava scattando per un famoso brand di scarpe. Bene, penso di essere stato abbastanza chiaro e preciso sull'uso compositivo di questa tecnica, se avete dei dubbi come al solito ho delle domande, se volete farmi delle domande scrivetelo nei commenti, io chiudo anche questo appuntamento con anatomia di uno scatto e vi aspetto al prossimo dove proseguirò lungo questa linea, proseguirò dandovi un filo conduttore che lega le immagini di modo tale che di volta in volta andiamo ad approfondire un aspetto tecnico e compositivo ben preciso che è stato utilizzato dai grandi autori. Alla prossima con i prossimi 5 autori di anatomia di uno scatto. Ciao!